Piazza Lumiere, chiamma l'affanuglia, caricati riesce chi le passa a mano, l'ascensore non si piaccia, che piano stai io? O che stai io? O che stai io? O che stai io? Fatte le riesce a fare con la spesa a mano, 30 piedi di giorno e vieni come ti emagrici, tu, tu, invece ti fai portare la spesa a casa, ma la fai tu, posa la macchina, stai a pera, scrolliamoci queste comodità, invece no, ci siamo fatti, tutto, tutto fa l'uso, la telecomanda, la televisione non si va a picciare più, no, il telecomando, la telecomando per la finestra, la telecomando per la piocciessa, perché uno sta da muovere tutto fatto, stanno facendo quelle pubblicità per la televisione, chi lo compagisce con l'elettrono, con l'elettrono, non lo fai, come si dice, che le cose che si afficciano per tutte le panze. Si, 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 si. E beh, non lo dico a favore lui, non lo metto a morire, se ti metto per coppa la panze, ma ti ha sentito un coppo di mano, è vero come se ne scende la panze, si, 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 stai fresco, tu oi, chi li cosi ha letto, ti metto a dirlo, mi metto il gammetello, oi, è vero come ti riassoti, aspettate che poi vi riassotate tutti e due, ma io non tengo di filo, e lo vado a rassotare il cervello tutti e due. Ah boh, uno non può fare pochi movimenti, lo potessimo pure fare. E non lo tengo di filo a palestra, perché mangio avrete le novelle o io? Oii, le novelle, la settata, la settata, un coppo di divano, con la pacca sul divano. Ma anch'io, questo è un paese, un paese che sono pieno così, in tuo parco allo stracassimo, hanno organizzato una tornella, che è creatura, con una tornella di calcetta. Ah, brava, e questa è una cosa intelligente. Siamo cominciando già a dimagrire. Oh, ti stai muovendo. Eh. Ma che capite? Tu calcetta a 5 lo fate? No, ma che capite? Quale calcetta a 5? Nooo, quella playstation, con joystick, joystick, guarda che si subito, si puoi mettere i profili. Anima, l'animale, perciò oggi si muove di infarto perché non c'è muovimento più, perché si è, oh grasso, oh grasso, c'è vuoi il cuore, capite? Stiamo guardati colesterolo, stiamo guardati perché non c'è più movimento, troppo, troppo guardati. Facciamo un movimento, una proposta, una sola condizione me l'ha consigliato io proprio che stai facendo, però proprio perché lui non ci crede a queste lettere, come movimento a me quello che mi piace è fare i balli, queste cose, i movimenti, senza che la palestra ti metti. Ah, tu la cretinata, stai le balli che sono asciute, l'aerobica. Eh, eh, eh. Perché è bello appendare. Ma appendare, io ti appennesso là sotto, a te hai inserito. Ma no, ma un maccarone, la maccarina. La maccarina, la maccarina, la maccarina. Ma uno mi ha dato un manuale al caffone, un manuale al caffone, un manuale al caffone. Eh, tu che lì stai facendo dimagrire? Un manuale, una bella caprarella al cancro, con le spalle, con la capiciarina. Sai che qui vengo per dire come un manuale. Mi hai fatto niente. Quando è brutta a combattere l'ignoranza. Ma qua l'hai capito? Un manuale al caffone, un manuale al caffone, vicino a me hai detto con chi? Mi sento, gonna, sicuramente. Anderei, non l'ha venuto, siamo geni e te. Perché, sicuro? Eh, ora dici qua, ca' sicuro. E adesso non ti preoccupare, cuca su su, veramente. Ca' sicuro. Ca' sicuro. Ca' sicuro? Ca' ma su, sai cosa è la ca' ma su. Eh, come amore? A me è una ca' ma su tro! Ah, ecco l'ho fatto una mano a su. Un'altro! Non lo faccio ancora, però mi hai assurato che il ca' sicuro veramente. Comunque questo manualetto no? Tutti i movimenti che ci stanno a coppia devi fare con mogliere o con sorda, perchè la ginnastica è di gruppo. Giù non siete meglio, con mogliere, sorda e cainate tuoi. Ma ti dà paura in un libretino? Lì non hai capito? Ma perchè io non l'avevo, io non l'avevo. Ma questo sono veramente. Tu questo capisci, la forbice non tagli neanche il doppio punto meno, ma come fai a tagliare i clienti? Non lo so, vabbò c'è una giocata nuova. Stai leggendo e bello tu così assorto. Mi aggiorno. Perchè non mi leggi un po' con l'oroscopo? Ah perchè tu credi a si fessare a andare l'oroscopo? Ah mi piace. Perchè tu non ci credi? Ah che già credo. Ma tu stai scherzando? Ma tu lo sai che io stavo certe mattine che se non mi leggi l'oroscopo non so se c'è nanzo? Perchè quelli ci azzeccano, ci azzeccano sempre. Ah mi piace. Eh poverè? Eh eh. Leggi l'oroscopo tuo, fammi sentire. E che lo so? E che sa c'è l'oroscopo? Io non leggo mai. No? Ma perchè non sai neanche che segno sia? No. Mamma mia, guardate, guardate. Ma come nemmeno tu non sai che segno sia? Ma tu ti chiamo. Eh. Quando sei nato? No. Ma boh, ma non significa niente 1800. Non era l'anno che mi interessava. Mi interessa il giorno e il mese. 11 gennaio. 11 gennaio. 11 gennaio. 11 gennaio. Ah. Sei? Hai un capricorno. Capricorno? Si. Sei capricorno? No. Leggi, leggi, leggi. Fammi sentire che dice. Andiamo a cena. Andiamo a sentire. No. No.